La campagna elettorale già nel vivo, il giro di big stavolta comincia prima del solito, Matteo Salvini a Bari. L'appuntamento in agenda per la sera di martedì 2 agosto in un lido del capoluogo. Il leader del carroccio prova a tirare la volata ai suoi che in Puglia contano sugli uscenti, Roberto Marti, Annalita Tateo e Rossano Sasso, ma non solo. Degustazione di prodotti rigorosamente made in Puglia e cena con il segretario federale a una settimana di distanza dall'apertura della campagna di Fratelli d'Italia a Giovinazzo, senza Giorgia Meloni ma ugualmente con lo Stato Maggiore schierato a partire da Raffaele Fitto e Marcello Gemmato. A sinistra tiene banco il nodo dei civici, reclamano spazio di manovra, ma soprattutto agibilità nei listini e non solo nei collegi uninominali. Lo hanno formalizzato qualche giorno fa in conferenza stampa e al segretario Dem non resta che provare a tenere tutto insieme. Siamo impegnati rispetto al Partito Nazionale ad individuare tutte le possibili opportunità che consentano a quel mondo di avere la giusta e necessaria rappresentanza nelle liste che correranno alle prossime politiche, spiega, rinviando alla composizione nazionale della coalizione e del perimetro. Soprattutto lo spazio però è stretto. Martedì il risico dovrà essere chiuso.